Sì, siamo in uno dei cantori della vostra arte, so chi si capisce quello che volevo dire che è un frigo, è un frigo, è un luogo di produzione, è un sforcito, è un rumore del suono. Noi andiamo in un momento in giro attraverso il recupero della nostra esperienza, è un luogo di villario di Stanley la vostra arte, come con la venite. So, si ritrompe la vorzetta e non lascia? Al poco non sabe, ma non insegnare le domande. Quindi insomma non scegliere l'amtigianza, e quindi scegliere con la presenza di Love & younger. Iniziazione, attenzione di una nascita, propo di Kristen and the dirett Sef, Old suggestions, poiché contrasti per il suo fisico e laendenza è Malerina e una muistica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.